Uno dei punti di forza di qualunque linguaggio è certamente la presenza delle istruzioni che permettono di ripetere una o più istruzioni un certo numero di volte o finché rimane vera una certa condizione. Per ottenere quello che state vedendo in questo momento ho utilizzato due istruzioni, una che stampa l'hello world ma poi un numero di spazi scelto in modo casuale e una seconda istruzione che prima di stampare il successivo fa passare un numero casual di millisecondi. Senza ritardi e senza spaziare in modo differenziato gli hello world il risultato serve invece questo. Troppo regolare, meno interessante ma partiremo proprio da questo esempio perché è il più semplice da codificare. Vediamo l'istruzione e procederemo in questo modo. Prima andremo a esaminare tutte le varianti di cicli, di strutture di ripetizione, iterazione, sono tutti sinonimi importanti e da sapere e poi le metteremo a confronto per capire quando preferire uno o preferire l'altra oppure quando sarà indifferente. Possiamo individuare due tipologie di cicli. Gli indefiniti, cui appartengono il while e il do while, e i definiti o enumerativi di cui parleremo più avanti. Attenzione che il termine indefinito non ha un'accezione, un significato negativo, ma che tecnicamente questi tipi di ciclo trovano il loro naturale ambito di applicazione nei casi in cui non si sa a priori quante volte quell'istruzione o quel blocco si ha ripetuto. E occhio, ho parlato di naturale ambito di applicazione. Questo non significa che non posso utilizzare questi cicli anche dove si conosce a priori il numero di volte da ripetere la o le istruzioni, 10, 20, 30, 1000, quelle che sono. Ma per queste situazioni il tipo di ciclo più adatto, più comodo, poi vedremo anche il perché, e invece appartenente alla categoria degli enumerativi definiti, che vedremo appunto dopo. Ma un'importante verità deve essere chiara fin da subito, che sono tutti tra di loro interscambiabili. Quello che si può fare con un ciclo, certamente lo si potrà fare anche utilizzando un qualunque altro tipo di ciclo. Magari con una struttura un pochino più complicata, proprio perché non è il loro naturale ambito di applicazione. Ed è proprio per questo che vedremo tutti i primi esempi risolti con tutti i tipi di ciclo, sia questi indefiniti che definiti. Il ciclo while inizia andando a testare la condizione che andiamo a indicare dopo di lui, sulla stessa riga nell'intestazione del ciclo, tra parentesi, quel condizioni, poi vedremo quali condizioni potranno essere espresse. Se la condizione è vera, allora procede con l'esecuzione dell'istruzione o del blocco. Quando c'è una sola istruzione non c'è bisogno di mettere l'istruzione tra le parentesi graffe, ma lo possiamo fare, magari all'inizio per chiarezza conviene anche. Se ci sono più istruzioni da eseguire ad ogni ripetizione, allora per forza dovremo indicare tra graffe, e sarà anche facile capire perché. Dopo aver ripetuto la o le istruzioni, il ciclo while va di nuovo a verificare lo stato della condizione. Se la trova vera, andrà a eseguire una seconda volta l'istruzione o le istruzioni. Poi tornerà, ecco perché si parla di ciclo, di nuovo a verificare la condizione. Se questa sarà ancora vera, ripeterà. Questo continuerà finché qualcosa avrà fatto diventare falsa la condizione. A quel punto il ciclo termina, e si proseguirà con l'istruzione successiva al ciclo. Da notare che se la condizione dovesse rimanere sempre vera, il ciclo andrebbe avanti all'infinito, o meglio, fino al momento in cui l'utente dovesse chiudere l'applicativo in funzione. Ma andiamo a ritrovare subito questi concetti caldi caldi nella stampa degli Hello World. Ciclo while, si diceva. La condizione particolare, true, è un'espressione costante, è uno dei valori predefiniti, true, false, di verità. Nulla può cambiarlo. Ecco perché la stampa degli Hello World andrebbe avanti all'infinito. Da notare che trattandosi di una sola istruzione, come ho appena detto, potremmo anche non mettere queste parentesi graffe. quando avrete preso un po' di confidenza, è anche una cosa utile, nel senso che il codice diventa più compatto e anche più leggibile. Tant'è che spesso potreste trovarlo anche in questa forma. eseguo all'infinito questa istruzione. Vediamo insieme che nulla cambia. E questa forma è comunque preferibile a questa, perché rende più evidente che l'unica istruzione controllata dal while è quella lì. Infatti, ed è il motivo per cui suggerisco all'inizio, mettete sempre le parentesi, perché vi liberano da alcuni errori piuttosto maligni. Una distrazione. Magari avete appena fatto un bel corso di Python. Lì non esistono le graffe. Conta l'indentazione. Allora potreste essere tentati, dopo un po' di tempo, di tornare su questo ciclo, decidere che deve stampare l'oro e può andare a capo. Così. E in effetti, in questo caso particolare, quella zigrinatura verde, dovrebbe già metterci un po' in stato di allerta. Non, beh, sì, è verde, vuol dire che non è nulla di che. Dice, è stato rilevato codice non raggiungibile. E che vuol dire? Cosa vuol dire? Provate un attimino a pensarci. Convincetevi del fatto che qui l'esecuzione non arriverà mai. Senza le graffe, infatti, soltanto l'istruzione immediatamente successiva al while sarà considerata del while. Questa vi inganna solo perché è allineata esattamente sotto il primo console write. Ma in realtà siamo in questa situazione. E se abbiamo appena detto che questo ciclo va avanti all'infinito a stampare hello world, vuol dire che questa stampa non sarà mai fatta. Ecco il trabocchetto dietro l'angolo. Ecco perché forse se avessimo fin dall'inizio messo le graffe chiaro che così non cambierebbe nulla. Questo codice sarebbe sempre raggiungibile. Ma dovendo aggiungere l'istruzione di stampa ci sarebbe stato sicuramente più naturale venire qui stare all'interno delle graffe e aggiungere qua sotto questo comando. E adesso ci siamo. Ma diamo subito un'occhiata al do while. l'istruzione è molto simile nel funzionamento è solo sfasato il momento del controllo. Il do inizia subito con l'eseguire una prima volta senza porsi domande l'istruzione o le istruzioni. Poi while va a testare la condizione. Se è vera va a ripetere un'altra volta l'istruzione o il blocco e poi torna ancora a controllare la condizione e così via ciclicamente. Esattamente come il while il ciclo terminerà quando la condizione se lo diventerà diventerà falsa. In effetti si parla di cicli di ripetizione per vero o di uscita per falso. E questo vale anche per gli numerativi che vedremo. Proviamo a ottenere le stampe con l'hello world usando il do while. commento questa parte ctrl k c do istruzione una sola quindi possiamo non mettere le graffe fin tanto che rimane vera cioè sempre questa condizione. Eseguo stesso risultato ma proprio identico forse so a cosa state pensando che qui tutto sommato abbiamo un do e while che vanno a delimitare apparentemente l'istruzione e perché no magari anche le istruzioni senza dover mettere le graffe non dovrebbe confondersi no? tutto quello che tra il do e il while lo andrà a ripetere no segnala un errore perché ci sta dobbiamo pensare un po alla grande andremo più avanti a discutere sul fatto che come istruzione interna di un ciclo potremo mettere qualunque altra istruzione non un semplice console write quindi istruzione diciamo atomica ma potremmo anche mettere dei cicli dentro gli altri altri cicli e quale sarebbe il problema che se l'altra istruzione da mettere dopo la prima console fosse un while e qui adesso andrebbe in estrema confusione perché non riuscirebbe più a capire ma sto while cos'è? il while che chiude questo do o il while di un altro ciclo dentro il primo no ecco perché quando c'è bisogno di aggiungere tutto sommato quindi con la stessa logica ed è più facile così ricordarlo del while anche qui se dobbiamo mettere più di un'istruzione do graffa istruzione e altra istruzione al limite anche un altro intero ciclo come abbiamo appena visto adesso ci siamo ah bello abbiamo trovato due modi diversi di fare la stessa cosa non c'è un certo senso di inutilità in questo ovviamente sì ci sarebbe ma è solo perché ci siamo limitati a questo caso particolare inoltre va bene ma se non voglio andare avanti all'infinito quali altre casistiche potrebbero risultare interessanti come schemi di programmazione di organizzare le istruzioni risponderemo a queste due domande nel prossimo video dove vi presenterò delle situazioni in cui sarà proprio evidente che è meglio usare il while o meglio usare il do while e sto sempre dicendo meglio nel senso che potrei anche forzare la mano usare il ciclo tra virgolette sbagliato che non lo sarebbe ma richiederebbe più accortezza e una maggiore complicazione del codice e in generale esponendosi maggiormente alla probabilità di commettere errori a risentirci ecco